Giornata a Roma per il sindaco di Pesaro Matteo Ricci che, oltre ai personali impegni politici istituzionali, ha voluto presenziare in Campidoglio all'ultimo saluto al presidente del Parlamento europeo David Sassoli. Ora si torna a Pesaro dove Ricci è atteso al giro di boa del suo mandato da sindaco. Metà percorso che il primo cittadino analizzerà apparecchiando sabato 15 gennaio la novità degli stati generali di midterm, ovvero una riunione plenaria che si diramerà in tavoli di lavoro suddivisi mattina e pomeriggio fra i vari assessorati che forniranno l'occasione per aggiornare il programma di lavoro insieme alla città mettendo sul piatto idee e sfide dei prossimi mesi partendo da due questioni fondamentali, la perdurante emergenza sanitaria e i contributi dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che arriveranno nei prossimi mesi. Cambia il centro nevralgico degli stati generali. Non sarà più il teatro Rossini come annunciato fino a ieri ma il teatro sperimentale dove Ricci sabato alle 10 terrà la sua relazione introduttiva per poi attivare dalle 11.30 alle 16 i tavoli di lavoro dei vari assessori sparsi fra palazzi del centro. Mila della Dora ha lo stesso sperimentale, Enzo Belloni ha i dimorotti nel Palazzo del Comune, Francesca Frenquellucci e i nuovi assessori Luca Pandolfi e Camilla Murgia a Palazzo Gradari, Daniele Vimini a Palazzo Mazzolari, Riccardo Pozzi alla Chiesa dell'Annunziata. Si può partecipare agli stati generali inviando una mail d'adesione a info-comune.pesero.pu.it entro le ore 13 di domani venerdì 14 gennaio.